Welcome, io sono Miss Femmesapè, sono felice di averti qui, alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa, la passerina cinguettato che al grande fratello VIP tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, polemiche, intrighi, battute divertenti. Al grande fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi scoppia di nuovo la passione, ci stiamo riprovando, vero, ritorno di fiamma per i Donnalisi, dopo le parole di fuoco volate nell'ultima puntata, guarda tutto il video per approfondire la notizia e capire cosa è successo. Tanti abbracci, parole dolci, dediche, dolci carezze e teneri baci, tra Edoardo Donna Donna Maria e Antonella Fiordelisi sembra essere passata la sfuriata, si amano, poi litigano, poi fanno pace e un amore litigarello. I Donnalisi, come li chiamano nei social, si amano con passione. Oggi pomeriggio i due ragazzi si sono scambiati dolci e fusioni, Edoardo ha voluto fare pace con Antonella, stringendola, abbracciandola, baciandola teneramente. Antonella ha detto, prima eri più dolce, ricordando una litigata con Donna Maria nell'ultima puntata del GF VIP, allora me ne vado, ha detto lui facendolo offeso. Antonella ha voluto e mette nero su bianco, ci stiamo riprovando, vero, guarda che questo per me non è un gioco, ed Edoardo risponde, neanche per me, che pensi, scrivimi nei commenti un tuo pensiero. Amica, o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza, a presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Miss Famesepe, e ora pubblicità che fa bene al cuore, mi hanno detto che se faccio vedere la mia topina tu mi metti un like, vediamo. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. Ho avuto spesso la fortuna di essere molto vicino alla gente. a 40 anni ho avuto il privilegio di poter donare midollo osseo a una persona salvandogli la vita, e quando a ottobre 2017 mi sono trovato in ospedale con tanti malati, ho avuto la fortuna di sentirmi confortato dal loro affetto, mi hanno fatto forza. ciao 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 amica, o amico, ti va di guardare altri video clic sul filmato scelto, se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni, è stato un piacere averti qui, torna a trovarci a presto. 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 a presto.